desideri analoghi chi frequenta gli stessi ambienti commento li frequentano le persone che hanno sentire analoghi e anche desideri analoghi se la forma pensiero che attrae le persone in un ambiente contiene il bisogno di alcol per esempio ecco che il bisogno di drogarsi che è una vibrazione analoga a quella dell'alcol risuona nella stessa forma pensiero dell'alcol allora le due vibrazioni analoghe si trovano si riconoscono e si energizzano l'una con l'altra e il desiderio della persona che ha bisogno dell'alcol e della persona che ha bisogno della droga diviene ancora più acuto se queste persone frequentano lo stesso ambiente la forma pensiero diviene ambientale perché non è energizzata da una sola persona ma da un gruppo di persone